Ci siamo ancora tra virgolette, passatemi il termine, vendicati per quel derby dell'anno scorso perché il ritorno è stato un pareggio in un'ottima partita fatta da noi comunque in una situazione che è molto pesante anche a livello di uomini mi ricordo e tutta la squadra, tutti i compagni sanno quanto è importante, sappiamo sia quelli che ci sono qui da più anni quanto è importante quindi oltre ad essere il derby è anche una partita che può lanciarci definitivamente dopo queste ultime 4-5 che abbiamo dimostrato senza trovare i risultati che volevamo poi.